torna sul ring per difendere il titolo di campione italiano dei pesi massimi andiamo a incontrare Fabio Tujak che si sta allenando scavalco entro nel ring a mio rischio e pericolo ti stai preparando per questo incontro di sabato come ti senti benone credo che ho un buon ritmo l'avversario è fattibile insomma si è meritato questa chance di Bernardino perché un ragazzone che fa male vince per K.O. ha battuto per K.O. il ragazzo che ho battuto io i punti per il titolo quindi se ne merita questa chance anche se io credo di essere più esperto a avere una tecnica migliore forse lui ha un pugno più potente ma io adesso punto anche a non prendere troppi colpi a boxare con la miglior tecnica insomma ormai ho 38 anni una certa patronanza della tecnica dovrei averla meglio meglio di lui dai ecco il tuo avversario è anche politicamente schierato oppure questa volta la politica lasciamo da parte no stavolta la politica non so anzi magari glielo chiederò credo potrebbe anche magari essere della mia parte insomma sinceramente mi sta anche simpatico mi ricorda un po come ero io un po più un po più giovane no che vincevo spesso per per K.O. però non curavo troppo la difesa insomma mi prendevo mi prendevo i miei rischi adesso ho molta più esperienza forse la politica mi ha fatto bene non so combatto a Brescia anzi a Brescia a Montichiari in provincia di Brescia scusate sarà sarà in diretta su Sport Italia insomma è serata interessante spero di tornare a vincere per K.O. insomma il mio mi basta riportare sinceramente a casa di nuovo la cintura e poi difenderò qua Trieste mi sento mi sento proprio bene non so cercherò sicuramente di vincere per K.O. adesso grazie a tutti